E' stata inaugurata The Opening la mostra personale d'arte contemporanea di Sarah Stein, artista canadese che ha proposto la propria ricerca al Meme, spazio espositivo di Cagliari. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì sino al 15 dicembre. La mostra di Sarah Stein, The Opening, è una mostra che ho curato insieme a Enrico Piras, che è un artista cagliaritano e si svolge negli spazi di Meme. Meme è uno spazio no profit che è nato fondamentalmente ad aprile scorso e quindi questo progetto si inserisce nella programmazione annuale che riparte proprio con questa mostra per la stagione 2012-2013. Il progetto nasce, diciamo così, durante l'esperienza che Sarah ha fatto a Utrecht in un master in fine arts e fondamentalmente si basa il filo conduttore di questa mostra è il processo visivo, quindi è un'indagine percettiva su queste esperienze, insomma sul processo visivo. Il progetto parte dalla videoinstallazione che avete visto qua in fondo, che è il racconto fondamentalmente di un protagonista che svegliandosi nell'arco della notte trova un foro, un buco, che rappresenta il non conosciuto, quindi addentrandosi e rifacendo esperienza attraverso la percezione, attraverso il contatto anche con gli elementi naturali come possono essere i bastoni, i frutti, gli elementi della natura, compie un percorso teso alla conoscenza, fondamentalmente quindi alla ricreazione di un mondo partendo da elementi primari. La mostra è stata inaugurata venerdì, venerdì 16, e sarà visitabile ogni giorno sino al 15 dicembre, compatibilmente con gli orari di apertura del meme, che sono dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 20, oppure su appuntamento su richiesta, insomma, a Paolo Carta. Grazie a tutti.